telecittà diventa smart scarica la nostra app sulla tua smart tv e se non hai una smart tv puoi acquistare una chiavetta amazon fire stick o un decoder esterno android tv e godere della visione in hd con il video in alta definizione e l'audio dolby stereo ti immergerai nello spettacolo più puro l'app telecittà è scaricabile gratuitamente da tutti gli store presenti nelle più note marche di tv musica informazione sport intrattenimento tanti servizi e tante novità senza confini la tua tv diventa interattiva e noi ci siamo per informazioni 049 89 36 345 oppure www.telecittà.tv